Il suo nome era Roberto Rossellini. Era mio padre. L'uomo lo vedeva come un genio. Per noi, la sua famiglia, era molto più complicato di quello. L'odio il cinema, non mi piace. È una tortura per me. Mi sento sempre a disagio con la camera così. La famiglia ha avuto bisogno di te in più occasioni. Sì, una famiglia molto richiedente, però... La famiglia è la famiglia. Il mio padre ha lasciato il mondo per le masterpieces. E non un po' per noi.